Astenzione per 24 ore sia per i servizi di raccolta che per lo spazzamento con il rischio di mandare in tilt la città martedì. Esplode l'avvertenza Salerno Pulita con la FIAS che interrompe le trattative e proclama l'astenzione dal lavoro. Una scelta che però non è condivisa dalle altre associazioni di categoria. Per i sindacati infatti il rischio è di danneggiare gli stessi lavoratori alle prese con una trattativa ancora in corso con il Comune e di creare disservizi seri ai salernitani. Io mi auguro che prevarga il buonsenso, che non si faccia questo danno ai lavoratori che ci rimettono la giornata e alla città. Allora parliamoci chiaro, i problemi alla città ci possono essere al di là dell'adesione perché in un meccanismo così delicato come quello della raccolta basta che i 5, 6, 7 autisti dei combattatori decidano di fare sciopero per cui praticamente i combattatori restano pieni e quindi si creano problemi. Io mi auguro che prevalga il buonsenso, mi auguro che l'amministrazione, noi abbiamo un incontro fissato il giorno 14, in quella sede l'amministrazione decida della società Quindico e Sardone, firmi definitivamente l'accordo della trasformazione del rapporto da part time a full time e nel contempo si sani la vicenda dei lavoratori delle pulizie. Questo è l'obiettivo, questa è la possibilità, questo sciopero è incomprensibile, è dannoso.